bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 941 e oggi siamo tornati con l'episodio numero 33 dei gamberetti signori ultimo giorno di mercato allora io ho registrato no si ho registrato un poco avanti quindi non so se mi avete dato dei consigli eventualmente li sfrutteremo per gennaio signori noi penso che la squadra sia messa abbastanza bene al centrocampo siamo comunque coperti dico non non conviene spendere né cercare altri giocatori quindi concludiamo velocemente questo mercato e andiamo avanti signori andiamo la prossima partita che vediamo di giocarcela per continuare di a sostenere la risalita di questi gamberetti verso contorno alla zona playoff perché dobbiamo puntare alla prena la championship signori ovvero la serie b inglese se ci arrivassimo tramite i playoff andrebbe andrebbe anche bene attenzione offerta per il trasferimento per sullivan il nostro john il nostro john sullivan non si muove signori rifiuto offerta per salio noi abbiamo due giocatori abbiamo di augura la scusa e son go non è pure sul mercato fermi tutti ma son go non è sul mercato mi sono perso un attimino nella mia confusione teorica di giocatori son go non è sul mercato son go dobbiamo mandarlo a calci son go nel club lista trasferimenti a son go mio ma vattene pure te dico già di augurare il campo non lo vedrà son go già sono no di auguraccio dobbiamo tenerlo sulla pancia e di augurato dobbiamo tenercelo sulla pancia perché si ritira e non riusciamo a liberarcene o son go se riuscissimo a vendere lo sarebbe tanta cosa alleggereremmo il douglas costa al siviglia niente son go ci rimane sulla pancia signori messo sul mercato all'ultimo non riesce a trovare una squadra che lo possa comprare joseph martinez è passata non so quale squadra l'ultima giorno di mercato offerta per traspi è arrivata ed è arrivata ora l'offerta del trasferimento ma per chi per chi che te lo portava con la carriola reso conto pensieri squadra primavera offerta per il trasferimento per giardino stanno 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 schelezzando forse rifiuto offerta 2 milioni tanta roba però perché squadra era l'union berlino ma mai sentita ultimo giorno di mercato va bene son go ti ho messo sul mercato ma non hai trovato una squadra degna di di te praticamente va bene allora morecambe contro swinton alla signora io devo farlo solamente una cosa devo andare in schemi squadra eliminare i due schemi elimina titolari ok ed elimina anche panchinari ok va bene così perché sennò noi alleniamo sempre gli stessi che sono questi di qua praticamente invece noi lo dobbiamo modificare per ogni partita dobbiamo modificare ogni volta la formazione così gli allenamenti andranno su vari giocatori allora in attacco maladino smith no ritorno a stoccon e diamo punti a scott per giocare scott che è un piede sinistro sulla testa perfetto e stoccon che un bel testo sarà perfetto salivano va bene wilding che non giardino gibson va bene gibson lavandino davis no fuori davis dentro a clark il nostro clark kent e sulla destra mello importa lori facciamo giocare spike no facciamo giocare lori che mi sa che un po più giù di morale va bene signori io controllo velocemente due cose sul piano di crescita sul piano di crescita dei nostri uomini e poi ci vediamo in campo signori siamo in campo morecambe contro swidon una cosa del genere non è partita di campionato ma è partita di lf cup no no non f cup lf trofi una cosa del genere dovrebbe essere una cosa del genere non ne ho la più palle d'idea ed è un a gironi praticamente è a gironi siamo tre squadre e penso passi la prima penso quindi vediamo un attimino a saperlo potevo giocare con il potevo potevo schierare qualche panchinare in più guardalo bravo salivan daizio sali daizio sali daizio sali daizio sali daizio sali bellissimo era mannaggia ci siamo ancora con mello or mello or mello or mello or mello che cazzo lo la fai mello or attenzione attenzione ci vai o non ci vai no guarda gli abbiamo su un piatto d'argento su un piatto d'argento dov'era la nostra difesa signori dovevo per forza andarci col col difensore centrale non potevo neanche far scattare fuori gioco guarda dov'era la mia difesa ma dove cazzo lo era la mia difesa va bene va bene va bene dai la possiamo ancora recuperare la possiamo ancora recuperare la possiamo ancora recuperare dai dai bello signori sulla fascia lo zio lo zio sali lo zio sali la cross amato come cazzo l'hai cassata mannaggia dai 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 signori stiamo stiamo costruendo bene però quando loro ripartono sono terribili c'è da stare attenti ecco che sono ripartiti mamma mia sciabolata che se ne va a quel paese se ci arriva è infatti meno male ma porca ma porco ma porca auguri di buon natale dove va zio ora 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 bello bello zio bello zio ma lo zio ma lo zio no zio sali lo zio sali prendi tempo lo zio sali rientro c'è soli in quale la porta attenzione scott per lo zio sali 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 vede scott pareggiata uno a uno la segna lui scott che poi impazzisce vedi a mangiare la mucca prima delle partite, ti fa impazzire la mucca pazza è diventata parte di noi dai così uno a uno, grande Scott grande zio sali su quella fascia grande zio, Ugo Scott il nostro Ugo, ragioniere Ugo il nostro ragioniere come fan tutti signori il nostro ragioniere Ugo occhia loro, occhia loro che fanno il tiki-taka fanno il tiki-taka ma c'è chi c'è in porta, l'orei, l'orei bravo l'orei, bravo l'orei calma, 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 calma mello, mello, mello mello, mello, mello per il ragioniere, il ragioniere che vede lo zio lo zio, lo zio, lo zio, lo zio, lo zio lo zio, lo zio, lo zio, lo zio è bella zio, è bella zio, bella zio il ragioniere, ma chi cazzo la tia la guardia ha tirato allo steward, invece di puntare in porta ha tirato allo steward, va bene, va bene dai, dai, dai ancora noi, con il ragioniere ragioniere per lo zio, funzionano bene questi due su quella fascia, ancora guarda, guarda, guarda il ragioniere, guarda lo zio lo zio, lo zio, lo zio, lo zio La sblocca lui 2 a 1 Chiamo i compagni a festeggiare Lo zio Bella così signori Devastanti Su quella fascia devastanti Devastanti Va bene così Va bene così 2 a 1 Partito ribaltata Bella così Attenzione ancora Ancora lo zio Ancora lo zio Non è sazio Lo zio Salli Lo zio Salli Lo zio Salli Se ne va su quella fascia Non è sazio signori Non è sazio lo zio Lo zio Lo zio Lo zio Lo zio Bello il movimento Ma chi Ma chi Ma chi Ma chi Mamma mia Un passaggio in profondità Che era una ciofega Non era un passaggio in profondità Va bene Dai calma che sto a ripartire di loro Con Twine Che c'hanno? Le bustine di tè sulla fascia Perché incontriamo noi tutti quelli strani? L'altra volta c'è Harry Potter Questa volta c'è il tè Sulla fascia No Mamma mia Mamma mia Clark Non ci posso credere Non ci posso credere Il nostro Clark Kent Si è fatto bidonare In maniera terribile 2 a 2 2 a 2 Farò mai Penso che sia finito il primo tempo Infatti Il primo tempo è finito signori 2 a 2 Bella partita combattuta Combattuta Dai Vediamo che succede nel secondo tempo Attenzione Buono Se ne va Giardino 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 In trenare Giardino 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 Che cazzola fa Giardino Attenzione Wilding Wilding Che ce l'ha Wilding ce l'ha Il tiro Ma no 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 Ancora no Ancora no Giardino 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 Per Stocco 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 È un po' confuso Stocco Stocco No Niente Abbiamo perso Mannaggia Abbiamo fatto una grande azione Una grande azione Bello per il recupero di palla Ci siamo ancora Siamo ancora sul pezzo Siamo ancora sul pezzo Guarda Stocco Non riesce Passaggio filtrante Per il ragioniere Ah mamma mia Mamma mia Esci Lorei Meno male Meno male Lorei la salva Lorei la salva Dai Calma 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 Dove è Giardino Bravo Giardino 1-2 1-2 Giardino 1-2 Giardino 1-2 Giardino Troppo Troppo Stocco Stocco Mio Aia 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 Buonissimo Il nostro Superman Il nostro Clark Kent Che poi fa un passaggio Che è una cosa terribile Ancora pallone per loro Ancora pallone per loro Vediamo se riusciamo a recuperarlo Attenzione Attenzione signori Attenzione 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 Troppo libero Troppo libero Il limite dell'aria Troppo libero Il limite dell'aria Questo pure Mamma mia Bravo così Sì E non riusciamo a levare sto pallone Non riusciamo a levare sto pallone Dai Ci stanno più a pallone Bravo Lorei Bravo Lorei Calma 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 il sangue freddo Calma il sangue freddo Possiamo ripartire Attenzione Stoccono 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 Il ragioniere Preferisce Giardino Sulla sinistra Se ne va Giardino Se ne va Giardino Sulla sinistra Se ne va Giardino Si ferma Si ferma Guarda il movimento dei compagni Entri nel giardino Attenzione Ma chi Ma chi Ma chi Ma chi Ma chi Non ci posso credere Che errori banali Che facciamo signori Che errori banali Dai che fuori Stavala Dai che fuori Smetti Lamello Non c'è bisogno Che Taffmazzi Per correre Su sto pallone Chi mi suggerisce Wilding per Diagurara Ma sei pazzo Che faccio uscire Entrare Diagurara Che cos'è Il festival dei pensionati Ehm Chi c'ho io Non c'ho nessuno Ottimo Ho solamente 5 cambi perfetto guarda preferisco far entrare son go preferisco far entrare son go per wilding e base la anche se stanco per mellor che su quella faccia su quella fascia sono terribili su quella fascia ce la stanno vedendo pietre pietre ho uscito la bustina di te è uscita la bustina di te su quella fascia va bene speriamo che non sia entrato qualcuno di peggio non sia entrato qualcuno di peggio dai signori mel gibson mel gibson mel gibson perché non che non per la giardino 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 per stoccon stoccon vede il ragioniere il ragioniere il ragioniere il ragioniere il ragioniere il ragioniere non serve stoccon che era andato bene il movimento vede però son go son go son go fa una gran cacata terribile son go mio primo pallone sbagliato così vai clark kent vai clark kent ma clark kent è lentissimo clark kent signori mamma mia mia non è molto più veloce no leva sta palla quello fa la rovesciata per salvare per levare la palla la palla da dentro l'aria dai dai attenzione stoccon 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 se ne va stoccon se ne va mamma mia che salento stoccon mio dove vuoi andare stoccon vedi il ragioniere guardi il ragioniere buono è un momento il ragioniere che entra in aria il ragioniere non ci credo bravo così uccidilo bravo mel bravo mel gibson abitato a fare film quelli duri mel gibson gli ha tagliato le gambe buono così buono così chi se ne frega il cartellino giallo frega nel mel ottimo ottimo così dai 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 mamma mia clark kent è lentissimo signori questi che cosa ci fanno qua dai 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 ultimo minuto è finita due minuti di recupero è finita signori 1 a 1 un punto a testa un primo punto a testa vedremo se riusciamo a passare il turno oppure no va bene signori un 2 a 2 che ci sta ci sta va bene l'avendino vuole già vuole parlare mi stai temo se ne ho messo intenzione di riazzarmi solo mi sentivo minacciato dai nuovi ma non ti preoccupare lavandino mio c'è sempre bisogno di te in un bagno non ti preoccupare ma andiamo avanti signori si torna a giocarci il campionato è arrivato aggiornamento dell'osservatore va bene allora facciamo così io per questo video mi fermo qui il prossimo ci andremo a vedere cosa ci hanno portato gli osservatori e che ci andremo a fare la partita con il chalton chalton detto questo signori grazie per guardare questo video non ci siamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao